La gelosia ha sempre tradito Yuri. Si odiava per la sua incapacità di controllare il suo comportamento quando si trattava di ricordi. E tutto tornava al punto di partenza. Yuri era di nuovo geloso di Elena, anche se erano passati più di dieci anni da quando si erano lasciati. Il loro incontro fu casuale. Stava passeggiando con suo figlio nel parco, e Elena era venuta nello stesso parco con sua figlia. La bambina aveva quasi dieci anni, e suo figlio era più giovane di solo un anno. Dopo essersi separati, Elena e Yuri avevano subito formato nuove famiglie. Avevano avuto i loro figli. Ma i sentimenti che ribollivano dentro Yuri non lo abbandonavano mai, neanche per un giorno. Aveva sempre amato Elena e continuava ad amarla. Nonostante fossero passati tanti anni, forse era l'unico amore della sua vita, e non riusciva a lasciarlo andare. Ciao. Salutò educatamente e persino sorrise quando vide Yuri. Lui sentì una fitta dolorosa che subito si trasformò in un battito cardiaco accelerato. Lei gli sorrise, e per lui era così importante. Forse Elena non era nemmeno arrabbiata con lui. Ciao, Elena, rispose Yuri, poi spostò lo sguardo sulla figlia della donna, che era la sua copia esatta. E ciao a te, Nika. Buongiorno, signor Yuri. La bambina salutò educatamente, proprio come sua madre. Poi non distolse più lo sguardo dal figlio di Yuri. Come va? chiese Yuri, rivolgendosi ora ad Elena. E poi fu come se fosse stato colpito da un fulmine. Elena aveva il ventre arrotondato. Era incinta. Beh, hai già capito tutto. Elena sorrise di nuovo, e questa volta il suo sorriso era gentile e ampio. Era felice della sua condizione, ma Yuri si sentiva a disagio. A che punto sei? Possiamo già congratularci? Sì, Yuri, puoi farlo. E Nelly non mi ha detto nulla di te, disse Yuri con delusione. Come se il fatto di sapere della gravidanza della donna che amava non dalla sua stessa moglie cambiasse qualcosa? Nelly non sa nulla, rispose Elena tranquillamente. Lo sanno in pochi. Ultimamente è diventato difficile nascondere la mia condizione. Capisco. Tu e Pietro come sempre segreti. Nascondete la vostra felicità alla gente. Questa volta Yuri non riuscì a trattenere il tono di risentimento, ma poi si rese conto che il suo comportamento era ridicolo. Non era l'ultimo arrivato in città per sentirsi così insicuro, anche in presenza della sua ex amante. Ma Elena era incredibilmente attraente. Anche se era incinta, e incinta di un altro uomo che era e rimaneva suo marito, lei comunque attraeva Yuri, come se dentro di lei ci fosse una sorta di magnete invisibile. Non abbiamo nulla da nascondere, Yuri. Elena sorrise, poi lasciò la mano della figlia. Nika corse subito verso le giostre, e il figlio di Yuri, Leonid, la seguì. Sorprendentemente, i figli di Elena e Yuri erano amici come se fossero fratelli e sorelle. Nulla? Allora perché non gliel'hai detto fino all'ultimo? Perché l'hai fatta nascere in un'altra città e hai vissuto lì fino a quando lei aveva un anno? Elena abbassò leggermente la testa, come se stesse studiando l'espressione di Yuri, che a malapena riusciva a trattenere il suo disappunto e i tentativi di cogliere Elena in fallo. Questi non erano tentativi di nascondere la loro felicità. Non volevo semplicemente che si spargessero voci in città. Ti ricordi perfettamente come ci siamo lasciati. Sapevo benissimo che mia sorella non era indifferente a te, che voleva sposarti. Inoltre, ti sei sposato con lei così in fretta che non avevo nemmeno bisogno di nascondermi da te. Certo che dovevi. Queste parole Yuri voleva pronunciare, ma si trattenne. Se Elena e Pietro non fossero scappati dalla città e non si fossero nascosti altrove, Yuri li avrebbe sicuramente trovati. E solo Dio sa cosa sarebbe stato capace di fare in un impeto di gelosia. L'anno in cui Elena visse con suo marito in un altro posto aiutò Yuri a riprendere il controllo di sé, a superare il rancore e la gelosia. E persino a sposare Nelly e avere un figlio. Sai perché ho sposato tua sorella. E anche questo era vero. La somiglianza fisica tra Elena e Nelly era la ragione principale per cui Yuri aveva sposato proprio la sorella di Elena. Nelly era un po' più giovane, ma avevano tratti del viso comuni. Capelli rosso fuoco, occhi azzurro brillante in cui si poteva annegare. Certo, Nelly era completamente diversa, molto diversa dalla sua sorella maggiore, ma comunque assomigliava molto ad Elena e questo rendeva la vita di Yuri più facile. Inoltre, Nelly lo amava, veramente devota, solo perché lui era nella sua vita. Non chiedeva nulla in cambio, era arrabbiata con sua sorella per non aver apprezzato l'anima di Yuri, per aver scelto come marito un fallito come Pietro, che non poteva nemmeno essere paragonato a Yuri. Lo stai facendo soffrire, non lo capisci, chiedeva Nelly ad Elena con indignazione nella voce. Un uomo del genere ti ama e tu gli fai del male, e non ti dispiace per niente. Ti sbagli, replicava Elena. Mi dispiace per Yuri, ma non per chi mi ama senza essere ricambiato, ma perché non sa controllarsi. Non è colpa mia se amo un altro, il cuore non si comanda. E Yuri fa di tutto per rendere la vita di Pietro insopportabile. Perché lo fa? È così che si comportano i veri uomini? Deve combattere, lo capisci? E Yuri combatte. E quali metodi usa sono affari suoi. E il tuo Pietro non riesce neanche a difendere se stesso, né te. Un fallito in una parola. Non spetta a te giudicare Pietro. Ora Elena parlava con sua sorella senza nascondere l'evidente risentimento. Io lo amo. Lui ama me. Pietro è una persona molto buona. Cura i bambini e aiuta le persone. Non dirò niente di male sui Yuri, ma lui è ancora molto lontano da Pietro. Il tuo Pietro è un fallito, ripete Nelly e fece il broncio. Non era grata ad Elena per averle dato l'opportunità di stare accanto all'uomo che amava. Se Elena non si fosse innamorata di Pietro, Yuri l'avrebbe sicuramente sposata e non avrebbe prestato attenzione a Nelly. No, non amava semplicemente il suo Yuri, voleva solo che il suo amato fosse felice. E Nelly capiva perfettamente che senza il ricambio di Elena, Yuri non sarebbe mai stato felice. Per questo Nelly malediceva Pietro, così stupidamente apparso nella vita della sua sorella maggiore e che aveva reso infelice Yuri, quando si scoprì che Elena aspettava un bambino da Pietro. La vita nella città, dove quasi tutto era gestito da Yuri, divenne praticamente insopportabile. Elena e Pietro se ne andarono, si sposarono, e presto nacque la loro figlia Nica. Yuri, addolorato per la scomparsa dell'amata, è poi venuto a sapere da Nelly che Elena si era sposata e aspettava un bambino dal suo marito. Quasi subito chiese a Nelly di sposarlo. Lei, naturalmente, accettò, anche se capiva perfettamente che riusciva a stare accanto a Yuri solo perché somigliava come una goccia d'acqua a sua sorella. E non perché Yuri si fosse improvvisamente reso conto di essere innamorato di Nelly. Nelly non si era mai illusa e non aveva mai nutrito speranze vane. Capiva benissimo che stava accanto a Yuri solo perché era la sorella di Elena. Che gli ricordava Elena solo esteriormente, ma non avrebbe mai potuto contare sull'amore di Yuri per lei. E non aveva intenzione di farlo, si limitava a godersi l'opportunità di stare accanto all'uomo che amava. Poi nacque Leonid e la vita scorse tranquilla e serena. Yuri tradiva Nelly, e la donna lo sapeva. Capiva di non avere nessun legame che trattenesse il marito accanto a sé. E se fosse dipeso da lui, si sarebbe subito liberato dai vincoli del matrimonio. Lui non lo faceva. E Nelly non faceva scenate o crisi isteriche riguardo alle sue infatuazioni per altre donne. Sì, Yuri era fatto così. E Nelly, che lo amava con tutto il cuore, era pronta a sopportare qualsiasi cosa, purché lui rimanesse accanto a lei e fosse chiamato suo marito. Quando si parlò del ritorno di Elena con il marito e la figlia nella loro città natale, Nelly iniziò a preoccuparsi. Non la preoccupavano le numerose amanti del marito. Non si preoccupava del fatto che lui la ingannava e la tradiva costantemente. Ma il fatto che presto Elena sarebbe riapparsa all'orizzonte di Yuri fu un vero colpo per Nelly. La donna osservava il marito, scrutava attentamente il suo comportamento e ascoltava le sue parole. Ma no, non c'era nemmeno un accenno al fatto che Yuri fosse in attesa di incontrare il suo grande amore. Non mostrava alcuna preoccupazione né dolce aspettativa di incontrare Elena, che continuava ad amare. «Perché torni?» chiese Nelly ad Elena. Quando la sorella maggiore annunciò che sarebbe presto tornata in città con il marito e la figlia. «Strana domanda. Sai bene che li ho il mio lavoro. E Pietro ha i suoi pazienti, le cui visite ha sospeso per più di un anno. Anche i nostri genitori vivono in città, quindi non è sorprendente che io voglia tornare.» «Sorpresa!» disse con sarcasmo Nelly. «Siete scappati per un anno in un'altra città. E ora tornate indietro per motivi non molto chiari. Con i nostri genitori ci penserò io. E si può lavorare anche dove siete scappati.» «Sei cattiva!» Nelly notò Elena. «Non eri così prima.» «Anch'io ho scoperto molte cose nuove su di te.» rispose bruscamente Nelly. «Non pensavo che fossi una codarda che si sarebbe nascosta dal suo ex amante ancora una volta.» «Non mi sono nascosta» rispose Elena, ma entrambe le sorelle capivano che non era vero. Elena e Pietro erano scappati da Yuri, che era furioso, sapendo che il suo amato aveva trovato un nuovo interesse in un medico di dubbia reputazione. Molti avevano un'opinione scettica su Pietro, ma quelli che avevano bisogno di un buon osteopata si mettevano in fila per una visita dal signor Pietro. Pietro sapeva curare con le mani, diagnosticava senza errori e in seguito rimetteva in piedi anche i malati più gravi, quelli per cui non c'era quasi speranza di guarigione. Una volta Pietro aveva aiutato anche il padre di Yuri a riprendersi da una grave ferita, ma questo fatto non aveva migliorato l'opinione di Yuri su di lui. Yuri era arrabbiato con il giovane medico per avergli portato via la donna che amava. Pietro aiutava adulti e bambini, anche se nella sua città circolavano le voci più spiacevoli su di lui. Molti medici, abituati a ricevere soldi per cure lunghe e non sempre efficaci, avevano diffamato Pietro come un impostore che non faceva altro che ingannare la gente. Ma Elena, che aveva visto personalmente la gratitudine con cui le persone venivano da Pietro, quelle persone che suo marito aveva salvato con le sue mani. Non poteva non vedere l'importanza del lavoro che svolgeva l'uomo che amava. Elena era orgogliosa di Pietro, lo amava intensamente e fedelmente, ed era pronta a seguirlo fino ai confini del mondo. Quando tornarono nella loro città natale, Yuri si presentò alla porta di casa loro lo stesso giorno. Colpì Pietro, spaventò Nica, che aveva sei mesi, e fece versare molte lacrime ad Elena. «Sei scappata da me con quel codardo», urlava Yuri, trattenendosi a stento e lottando contro il desiderio di colpire Elena. Era ferito dal suo tradimento, dalla sua fuga, dal fatto che lei aveva osato sposarsi con un altro uomo e avere un figlio senza il suo permesso. «Non è così! Non ci avresti lasciato vivere tranquilli in città!» Elena cercava di giustificare il suo comportamento, ma Yuri era fuori di sé per la rabbia e l'odio che lo divoravano. «Non ti avrei lasciato vivere con lui! Non avevi il diritto di ingannarmi! Di scappare da me! Avevo il diritto di fare tutto ciò che ritenevo necessario, e non avevo bisogno del tuo permesso! Non ti amo, e ho cercato di fartelo capire! Ma non mi ascoltavi! Non volevi ascoltarmi! Pensi che, essendo il capo dell'amministrazione locale, dovrei tremare davanti a te? Non mi importa cosa vuoi, perché amo un altro! Non ti amo!» Yuri alzò la mano, volendo colpire Elena. Ma non riuscì a farlo. Non capiva cosa ci fosse di così speciale in quella donna, che lo faceva temere di farle del male o causarle dispiacere. Elena era quella che idolatrava, che amava e con cui voleva stare. Ma lei non lo amava. Voleva stare con un altro. Doveva rassegnarsi, e per questo Yuri cercò di farlo. Passarono gli anni, ma non riusciva a dimenticare Elena. E ora che era tornata in città, era praticamente impossibile farlo, perché si incontravano continuamente nel loro piccolo paese. Al negozio, alla clinica, a scuola. Ora si erano incontrati nel parco, e Yuri aveva scoperto che Elena e Pietro aspettavano un altro bambino. Faceva male. La vecchia ferita si era riaperta. Dentro, tutto doleva di dolore e delusione. Tornato a casa, Yuri si ubriacò immediatamente. Doveva attenuare il dolore, nascondersi nell'alcol, come se fosse una tana in cui potersi rifugiare dall'amore non corrisposto. Davanti agli occhi c'era Elena. Felice, raggiante di gioia e in attesa di un altro bambino. «Facciamo un altro bambino», disse Yuri a Nelly, e lei fu molto sorpresa da quella decisione del marito. «Iuri, cosa è successo? Non abbiamo avuto intimità per più di un anno, e ora parli di un bambino». Yuri spinse un bicchiere dal tavolo, che cadde a terra con un suono fragoroso, ma non si ruppe. «Non ci sarà felicità», disse con un sorriso amaro. «Non ci sarà felicità tra noi, moglie. Proviamo a ottenerla. Fammi avere un altro figlio». Nelly si sedette di fronte al marito, inclinando la testa di lato. «Sei sicuro della tua decisione?» «Sicuro. Voglio un figlio. E tu me lo darai». Dentro Nelly tutto vibrava per l'attesa felice. Se Yuri parlava di un altro figlio, significava che c'era ancora la possibilità di essere felice e stare vicino a lui. Nelly amava così tanto Yuri che era pronta a soddisfare ogni suo desiderio. Idolatrava il suo uomo, era d'accordo con ogni sua decisione, anche la più terribile. Rimanere incinta fu quasi immediato. Alena diede alla luce una figlia, e sei mesi dopo Nelly partoria a Yuri un altro figlio. Le strade delle due famiglie si allontanavano sempre di più, ma Yuri non riusciva comunque a dimenticare il suo amore per la donna che era diventata la moglie di un altro uomo. Nella sua famiglia crescevano due figli, ma gli incontri con Alena non cessavano. Nelly quasi non parlava con sua sorella maggiore. Dentro di lei c'era ancora il rancore verso Alena per aver ferito Yuri, e Nelly non riusciva a perdonare questo neanche alla propria sorella. Nonostante ciò, i figli delle due sorelle si incontravano a casa dei nonni, interagivano tra loro, e persino si facevano amici. Mamma, perché la zia Nelly non ti vuole bene? Chiese una volta Nica, la figlia maggiore di Alena. La madre guardò con sorpresa la figlia, meravigliata dalla sua perspicacia. Infatti, entrambe le donne cercavano di far sembrare che nei loro rapporti tutto fosse tranquillo, ma non era facile ingannare i bambini. Perché lo pensi? Chiese Alena alla figlia. Nica aveva appena compiuto 13 anni e cercava di capire molte cose che rimanevano incomprensibili anche per alcuni adulti. Non parlate tra di voi, e quando lo fate, la zia Nelly ti guarda sempre in modo strano. Come se non ti amasse. Io voglio bene a Anna, è mia sorella. Ma Nelly non vuole bene a te, e tu a lei. Alena era perplessa, voleva rispondere qualcosa di chiaro alla figlia, ma non riusciva a trovare le parole giuste. Capisci, non in tutte le famiglie le cose sono uguali, balbettò Alena e guardò con preoccupazione il marito. Pietro non distoglieva gli occhi da Alena, come se temesse che la moglie potesse dire qualcosa di troppo alla figlia. Non uguali, ma fratelli e sorelle si amano. Io amo Anna, Alena ama Dimitrio, e tu ami la zia Nelly, ma lei non ti ama. Alena era felice, nonostante il fatto che con la sorella minore le cose non andassero bene. Amava Pietro, adorava i suoi figli. Aveva genitori vivi e sani, i suoi nipoti crescevano e non la trattavano peggio solo perché la loro madre non amava sua sorella. Sembrava tutto calmo e tranquillo, e anche il fatto di aver tradito Yuri un tempo non le impediva di vivere e godersi la vita. Tutto cambiò in un attimo. Insieme al marito, Alena stava andando nella città vicina per fare shopping, di buon umore, con le vacanze imminenti che la donna voleva trascorrere con la famiglia al mare. La piccola Anna aveva appena compiuto quattro anni, e quella vacanza sarebbe stata la prima dopo molti anni di permanenza a casa a causa dei frequenti raffreddori della figlia minore. In quella città, la famiglia intendeva comprare nuovi costumi da bagno, abbigliamento leggero e altre cose necessarie per una splendida vacanza al mare. L'auto apparve nella corsia opposta come dal nulla. Alena non ebbe nemmeno il tempo di capire cosa stava succedendo quando un enorme camion si schiantò contro la loro macchina dal lato della donna. Alena morì sul colpo, senza riprendere conoscenza, mentre Pietro rimase vivo, praticamente senza subire alcuna ferita. Il primo a sapere dell'incidente stradale, che fu fatale per questa famiglia, fu Yuri. All'epoca era già sindaco della città, e quindi tutte le notizie riguardanti i residenti gli venivano riferite per prime. Quando seppe chi erano le persone coinvolte nell'incidente, Yuri si precipitò immediatamente sul luogo dell'accaduto. Urlava, graffiava il terreno e piangeva disperato, scoprendo che Alena non c'era più. Non riusciva a sopportare la notizia. Voleva correre e saltare dal ponte situato a 20 metri dal luogo dell'incidente. Pietro era sotto shock. Sedeva accanto all'auto distrutta e faticava a capire cosa fosse successo a lui e a sua moglie. Seppe della morte di Alena molto più tardi, quando era già seduto in cella. Arrestatelo, urlava Yuri al capo della polizia locale. Voglio che vada in prigione. Non perdonerò mai quello che ha fatto. Signor Yuri, ma l'incidente è stato causato dal camionista, cercava di obiettare l'investigatore incaricato del caso. Senti, tu. Yuri si rivolse all'uomo in divisa. Con le vene del collo gonfie. Ti farò marcire in galera a vita se non dimostrerai la sua colpevolezza nella morte di Alena. Fai in modo che Pietro finisca in prigione. Altrimenti ti staccherò la testa e poi farò lo stesso con i tuoi familiari. Naturalmente, il poliziotto temette la collera del sindaco. E già dopo un mese Pietro fu condannato a una lunga pena detentiva. Nika e Anna furono accolte dai genitori di Alena e le bambine rimasero senza madre e padre. Nessuno si preoccupò di scoprire chi fosse veramente responsabile della morte di Alena. Il tribunale emise una sentenza e tutti consideravano colpevole il marito della giovane e bella donna, che presumibilmente era entrato nella corsia opposta. Dopo la morte di Alena, suo padre si ammalò. L'uomo morì appena qualche mese dopo la scomparsa della figlia maggiore, e poco dopo la sua morte morì anche sua moglie. Nika, che era riuscita a entrare al college, si trasferì in un'altra città dalla sorella di Pietro, mentre Anna fu presa in custodia da Nelly e Yuri. Yuri iniziò a bere, poi a picchiare Nelly. Un giorno, non sopportando più il comportamento del marito, Nelly fuggì, riuscendo a portare via solo i documenti. La donna aveva paura per la propria vita e per quella dei bambini, che erano testimoni delle risse scatenate da Yuri. Lui non riusciva a rassegnarsi alla perdita di Alena. Niente gli dava più gioia. Aveva perso il senso della sua vita. Ti odio, urlava, agitando i pugni, senza più trattenersi. Avresti dovuto essere tu al posto di Alena. Come farò a vivere ora? Come posso esistere senza di lei su questo mondo? Queste domande Yuri le ripeteva innumerevoli volte alla moglie terrorizzata, che non sapeva dove fuggire e come sfuggire al marito. Yuri era fuori di sé, voleva eliminare tutti quelli che si mettevano sul suo cammino. Non era più l'uomo sicuro di sé che sapeva prendere decisioni fredde e ponderate. «Tornerò a prenderti», sussurrò Nelly al suo figlio minore, che rimaneva con il padre. In quel periodo, Leonid viveva con i nonni paterni, e solo il loro figlio minore di cinque anni, Dimitrio rimaneva accanto al padre. Il cuore di Nelly si spezzava dal dolore e dal rimpianto. Le era così difficile lasciare il figlio minore con il marito, ma non vedeva altra scelta. Non pensava nemmeno alla sua nipote più giovane, perché già le faceva troppo male rendersi conto di quanto fosse cambiata la sua vita negli ultimi diciotto mesi. Dopo la morte di Alena, tutto era diventato terribile, come se con lei se ne fosse andato per sempre l'amore e la comprensione. Nelly si stabilì in un'altra città, temendo che Yuri l'avrebbe cercata. Ma lui non solo non la cercò, ma chiese il divorzio in silenzio e lo ottenne altrettanto silenziosamente. Nelly venne a sapere che Yuri viveva con un'altra donna da una conversazione con un'amica che era rimasta a vivere nella stessa città di Yuri. «Yuri è completamente impazzito», diceva l'amica a Nelly. «Ha fatto arrestare tutti», cammina arrabbiato come un diavolo. Ha stremato i suoi genitori. Per fortuna Leonid è riuscito a scappare nella capitale, dove è entrato all'università. Nelly non vedeva né Leonid né Dimitrio. Il figlio maggiore la considerava una codarda che non era riuscita a opporsi al marito, e le era vietato vedere il figlio minore. Nelly soffriva, riuscendo a malapena a trovare lavoro come venditrice di ortaggi, dato che in passato non aveva mai lavorato. Suo marito le permetteva di stare a casa, mentre lui portava i soldi. Ora doveva arrangiarsi da sola, trovare un modo per guadagnare e cercare di sistemare la propria vita. Non guardava quasi gli uomini. Il suo amore per Yuri era troppo forte. Nonostante nell'ultimo anno di vita insieme non ci fosse più nulla di buono tra loro. Nelly continuava ad amare Yuri e lo trattava con rispetto e stima. E anche la notizia che Yuri aveva divorziato da lei unilateralmente, sposato un'altra donna e non permetteva alla sua ex moglie di vedere i figli, non influenzava i sentimenti di Nelly per Yuri. Forse è una sorta di malattia, diceva Nelly alla nonna Antonina, presso la quale affittava una stanza. Non posso farci nulla. Anche se Yuri è un uomo terribile, continuo ad amarlo. E continuo a odiare mia sorella, anche se non è più in vita. Se non fosse morta, nulla di tutto questo sarebbe successo. Vuoi dire che Alena è colpevole di essere morta? Chiese scioccata la nonna Antonina. Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Forse sono semplicemente impazzita, disse Nelly con disperazione, guardando il viso della vecchia. Sono solo impazzita per colpa di Yuri. È l'unica persona nella mia vita che avrei dovuto odiare. Ma continuo ad amarlo e a incolpare tutti gli altri per quello che fa lui. Almeno questo lo capisci, disse conciliatrice la nonna Antonina. Se hai iniziato a capirlo, presto svaniranno completamente i tuoi incantesimi. Nelly si limitò a stringersi nelle spalle. Non voleva credere che suo marito fosse un uomo terribile, anche se in realtà era proprio così. L'amore per Yuri rendeva Nelly cieca. E persino dei suoi figli non sentiva così tanto la mancanza quanto di suo marito. Se solo potessi incanalare la tua energia in qualcosa di utile, disse una volta la nonna Antonina. Sto per andare in pensione. Tu potresti prendere il mio posto. Vai a lavorare come addetta alle pulizie in un orfanotrofio. Stando vicino ai bambini, il tuo cuore si aprirà. Nelly ci pensò. Era abituata a vivere come viveva. I soldi bastavano appena per le necessità. E quasi non pensava ai suoi figli. Dal suo paese natale le avevano detto che la nuova moglie di Yuri gli aveva dato dei gemelli e che lui aveva quasi trascurato Dimitrio. Al figlio minore di Nelly e Yuri era appena stato compiuto 10 anni. E Nelly pensava spesso a questo, sprofondando nei ricordi del passato. Andrò all'orfanotrofio, disse Nelly incerta, meno di una settimana dopo la proposta della nonna Antonina. Lavorerò a turni. A volte al mercato, a volte all'orfanotrofio. Avrò più soldi e forse sarò anche più utile. La nonna Antonina sorrise. Un mese dopo, Nelly iniziò il suo nuovo lavoro e capì che i suoi problemi, causati dalla vita, non erano paragonabili al dolore e alla disperazione concentrati in quel luogo terribile. Quante vite di bambini spezzate erano riunite in un solo posto, quante lacrime erano state versate e quante speranze erano state infrante. Nonna Antonina, come avete fatto a lavorare lì? Chiese Nelly alla sua padrona. Tornando a casa dal lavoro. Ci sono così tanti bambini tristi che hanno bisogno di amore e affetto che ti si spezza il cuore al pensiero di non poterli aiutare tutti. Lo vedi? La vecchia alzò un dito come per insegnare qualcosa a Nelly. Ora non pensi più al tuo lupo che è rimasto a casa. Ora capisci quanto possa essere difficile per gli altri e che non sei l'unica donna a soffrire. Questi bambini soffrono fin dalla tenera età e le tue sofferenze non sono minimamente paragonabili alle loro. Sì, lo vedo chiaramente, nonna Antonina. Non potete immaginare quanta rabbia provo a volte quando sento la storia della vita di ognuno di loro. Dopo aver iniziato a lavorare all'orfanotrofio, Nelly non riusciva più né a mangiare né a dormire tranquillamente. Appena chiudeva gli occhi, le apparivano le immagini dei bambini infelici, abbandonati dai genitori o separati da loro per varie circostanze. Sei la mia mamma? Mamma! Questa esclamazione fece sussultare Nelly. La donna guardò intorno e poi incrociò lo sguardo di una bambina. Tutto normale, ma gli occhi di quella piccola erano pieni di speranza e fede in un miracolo, tanto che Nelly sentì un dolore al cuore. Cara, non sono tua mamma, rispose Nelly con un sorriso, distogliendo lo sguardo dalla bambina e cercando di concentrarsi sul lavoro. Nelly fece rumore con il mocio e il secchio, poi iniziò a strofinare il pavimento con impegno. Avrebbe voluto sprofondare dalla paura di deludere la bambina, di toglierle l'ultima speranza in un miracolo. Sei la mia mamma? Lo so per certo, disse la bambina, tirando Nelly per il bordo del grembiue. Come ti chiami? Chiese dolcemente Nelly, rendendosi conto che non poteva semplicemente girarsi e non parlare con la bambina. La piccola era così determinata ad avere una risposta precisa e positiva che non c'erano opzioni per rifiutare. Guardando il viso della bambina, Nelly iniziò a innervosirsi. Sono Anna. Aspetta un attimo. Nelly osservava la bambina che correva verso le stanze, mentre il suo cuore batteva sempre più forte. Le si oscuro la vista, le mani iniziarono a tremare per il terrore e l'anticipazione di ciò che poteva succedere. Anna. Certo. E il visino della bambina le era familiare. Era passato più di cinque anni dall'ultima volta che si erano viste. Ma i bambini cambiano così velocemente. Non può essere. La bambina tornò di corsa, tenendo in mano dei disegni. I suoi occhi brillavano. E Nelly capì che stava per vedere qualcosa che avrebbe cambiato tutta la sua vita, per sempre. Dai disegni la guardavano i volti di sua sorella, morta sei anni prima. Era Elena. Accanto a lei sorrideva Pietro. Certo. I disegni dei bambini assomigliavano poco alle fotografie di persone viventi. Ma non c'erano dubbi. Nelly sentì le lacrime salire alla gola. La soffocavano, le impedivano di guardare i disegni, e le mani le tremavano tra ditricci. Assomiglio solo a tua madre, ma non sono lei, disse dolcemente Nelly, accarezzando la nipotina sulla testa. Quella sera stessa era seduta nell'ufficio della direttrice, leggendo i documenti su Anna. La madre era morta. Il padre in prigione. Il tutore aveva rinunciato alla tutela. Sì, quella era senza dubbio la firma di Yuri, che senza scrupoli aveva lasciato Anna all'orfanotrofio subito dopo la fuga di Nelly. Non riusciva a crescere il figlio di qualcun altro. E che dire, se non aveva nemmeno il desiderio di crescere il proprio figlio. Bisognava decidere qualcosa immediatamente. Nelly bussò a tutte le porte delle istituzioni, dimostrando il suo legame di parentela con Anna, ma ovunque le facevano la stessa domanda. Perché vuoi prenderti cura di una bambina se fai fatica a mantenere te stessa? Ma Nelly rispondeva fermamente a tutti che aveva il dovere di assumersi la responsabilità di una persona che una volta aveva tradito. Era una questione di principio. Sono pronta a lavorare 24 ore al giorno, purché abbia la possibilità di adottare la bambina. Con grande difficoltà riuscì a ottenere la tutela e per questo dovette tornare nella sua città natale per intestarsi l'appartamento dei genitori. Passò più di un anno da quell'incontro fatale all'orfanotrofio, quando Nelly finalmente aveva in mano tutti i documenti per l'appartamento e la tutela di Anna. Era giunto il momento di incontrare Yuri. E Nelly continuava a rimandare quel momento. Lo seguiva, vedeva la sua nuova moglie, i suoi figli, il suo figlio maggiore, che ormai aveva quasi 12 anni. Anna viveva con la zia, ma non sapeva ancora nulla del suo vero padre, né dello zio Yuri, che aveva avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. La mia mamma era bella, ripeteva sempre Anna, sfogliando le fotografie di Elena. La bambina parlava di sua madre con tanto calore e amore che Nelly si sentiva a disagio per i ricordi che la travolgevano ogni volta che veniva menzionato il nome della sorella. Tua madre era sia bella che molto buona, e anche tuo padre lo era. Il mio papà ha ucciso la mia mamma, chiedeva Anna. E Nelly si sentiva persa. Perché non sapeva cosa rispondere a una bambina che credeva che tra i suoi genitori ci fosse un amore sincero e illimitato. Non lo so, non ero lì. Ma penso che se tuo padre è colpevole della morte di tua madre, non lo ha fatto apposta. È successo e basta. Nessuno è colpevole. Nelly soffriva per essere separata dai suoi figli. Leonid viveva da alcuni anni nella capitale. Parlava con la madre al telefono in modo freddo e distaccato, interessandosi solo del fatto se Nelly avesse preso Dimitrio dai Yuri. Sto facendo del mio meglio, rispondeva Nelly, anche se aveva paura solo di pensare a una lotta aperta con l'ex marito. Yuri mirava a diventare governatore, e questo lo rendeva sempre più un uomo potente. Capace di fare di tutto. Una volta, incontrando Nelly in un negozio, Yuri non la riconobbe subito. Sei tu? Chiese. E sul suo volto apparve qualcosa simile a delusione. Sei invecchiata. Malandata. Nelly si sentì ferita nel sentire queste parole da Yuri, ma dopo quell'incontro capì che dentro di lei non c'erano più sentimenti per quell'uomo. Nelly non amava più l'ex marito. Con tutte le sue forze, cercava di liberarsi della sua attrazione per lui, e sembrava che ci stesse riuscendo abbastanza bene. Quella domanda fece sobbalzare Nelly. Non si era ancora ripresa dall'incontro casuale con Yuri, quindi fissò con incomprensione l'uomo che si rivolgeva a lei. Non mi riconosci? Sono io? Artem. Nelly ricordò. Un tempo era innamorato di lei, ma Nelly gli aveva subito spiegato che il suo cuore apparteneva a un altro. Più tardi, Artem non aveva insistito sui suoi sentimenti. Sapeva di chi era innamorata Nelly. Era proprio Artem a condurre l'indagine sull'incidente in cui era morta Elena. Ciao. Nelly sorrise debolmente. Scusa, non ti avevo riconosciuto. Stavi parlando con il signor Yuri. Lui sa già che sei tornata. Probabilmente sì, ma a lui non importa. A me sì. E voglio raccontarti qualcosa. Lui prese Nelly per il braccio e la condusse all'angolo del negozio, dove si erano incontrati. Mi sto trasferendo nella capitale. Servirò lì? Ma ho custodito un segreto per molti anni. Che non mi dà pace. E mi sembra che se lo condivido con te, mi sentirò molto meglio. E Artem condivise. Le raccontò come era morta sua sorella, le parole di Yuri e il suo ordine di far incarcerare Pietro a lungo e con la pena più severa. Vuol dire che Pietro è in prigione senza motivo? Nelly non poteva credere a ciò che aveva appena sentito. Sì, sembra proprio così. Tuttavia, Pietro è già stato rilasciato. È uscito in anticipo. Comunque non si può più cambiare nulla del suo destino. Ma per me era vitale purificare la mia coscienza. Bravissimo a farlo così in tempo, Nelly non poteva trattenersi dall'essere sarcastica. Avresti potuto salvare mia nipote dalla vita in orfanotrofio e suo padre dalla detenzione. Ma avevi paura. Paura di quel maledetto e di colui che pensava di poter gestire i destini degli altri, disse Nelly. Non rimpiangeva nulla. Bramava solo vendetta. E fu capace di ottenere la sua vendetta quando i documenti su Yuri furono presentati al procuratore della capitale. Nelly aveva raccolto tutto ciò che aveva conservato per anni e che aveva attentamente nascosto alle autorità. Sapeva molto sulle manovre del marito, ma lo aveva sempre compatito e aveva creduto che non avrebbe mai usato quei documenti. Non deve diventare governatore, disse pensieroso il procuratore, sfogliando i documenti. Qui si sente puzza di una condanna lunga, non di una sedia da governatore. Quanti soldi ha sottratto questo sindaco alla sua gente e quanto ha dovuto sopportare sua moglie? Se dopo tutti questi anni ha portato tutto questo da me? Nelly seguiva tutte le notizie locali. Sapeva tutto sull'andamento del caso di Yuri. Artem la chiamava continuamente e le dava notizie dalla capitale. Nelly cercava anche Pietro, ma era tutto inutile. Dopo l'uscita dal carcere non era tornato nella città natale. Un anno dopo l'apertura del caso, Yuri finì in prigione. Dimitrio tornò dalla madre e Anna ormai chiamava Nelly mamma da tempo. Tutto sembrava tornare alla calma, ma la cosa più importante era che Nelly si sentiva come una persona che aveva ristabilito la giustizia nella loro città. E, cosa ancora più importante, era riuscita a ristabilire la giustizia nella sua famiglia, sia 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 nella sua famiglia.